Rappina in gioielleria a Canicattì, bottino da 60.000 euro indagano i carabinieri. Neurologia, congresso a San Cataldo con l'assessore regionale della sanità Giovanna Volo. Scalta Nissetta, violenza sulle donne incontro alla sala degli oratori di Palazzo Moncada. Covid in Sicilia, bollettino settimanale, contagi in aumento. Ben trovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale. Apriamo parlando di cronaca, rapina in gioielleria a Canicattì, bottino da 60.000 euro indagano i carabinieri. Dettagli nel servizio. Due persone, a volto scoperto, hanno rapinato una gioielleria in Viale Regina Margherita, a Canicattì, in provincia di Agrigento. I due avrebbero minacciato con una pistola la figlia della proprietaria della gioielleria, riuscendo a impossessarsi di un pannello contenente un importante quantitativo d'oro. Secondo una prima stima, il bottino sarebbe stato quantificato in circa 60.000 euro. Sul posto, scattato l'allarme, sono arrivate tempestivamente tutte le pattuglie dei carabinieri e della polizia. Sono attualmente in corso le ricerche dei due malviventi, con le immagini delle telecamere di sorveglianza al centro delle indagini condotte dai carabinieri della locale compagnia. E adesso parliamo del congresso di neurologia a San Cataldo, presente anche Giovanna Volo, che è stata nominata alla guida dell'assessorato regionale alla sanità proprio di recente. Si è aperto ieri pomeriggio all'auditorium Gaetano Saporito a San Cataldo la quinta edizione di Highlights in Neurology, congresso aperto a tutti i neurologi e a chi vuole approfondire di più in questo ramo medico. Presidente del congresso, il dottore Michele Vecchio, nonché presidente della Società Italiana di Neurologia Sezione Sicilia. Congresso che si svolgerà fino a venerdì 25 novembre e si svolgerà in cinque sessioni, sempre in auditorium. Presenti all'apertura del congresso, il neossessore alla salute regione siciliana, la dottoressa Giovanna Volo, il professore Giulio Maira, uno dei massimi esponenti della neurochirurgia internazionale, il sindaco di San Cataldo, Gioacchino Comparato, il direttore generale dell'ASP di Caltanissetta, Alessandro Caltagilone, il direttore sanitario Marcella Santino. Io non ho trovato la sanità regionale perché la sanità regionale la conosco molto bene, quindi ho avuto la fortuna di lavorare in grandi strutture ospedaliere, in varie aziende sanitarie provinciali, sono andata in pensione appena due anni fa, quindi diciamo che conosco molto bene qual è la nostra realtà, ne conosco i pregi e naturalmente ne conosco i limiti e i difetti. Ed è quello che ha dato l'origine alla volontà del Presidente Schifani di nominarmi. A questo punto il mio compito sarà quello di, insieme a tutti gli operatori, a tutto quello che sono le strutture sanitarie presenti nella nostra isola, di costruire delle basi nuove sulle quali dare poi modo a chiunque verrà dopo di continuare a lavorare e di lavorare al meglio. Abbiamo moltissimo da fare e comunque ci sono delle normative nazionali che se applicate anche nella nostra regione certamente ci produrranno dei benefici. Voglio precisare che l'esperienza della pandemia è un'esperienza dalla quale dobbiamo trarre molto insegnamento e grazie a quello sicuramente potremo trovare le soluzioni giuste a quello che sono in questo momento le coggenze delle nostre difficoltà. È un momento importante perché è un trasferimento di saperi che intervengono tra persone, persone, cultori della nostra disciplina e noi che poi dobbiamo cercare di realizzarle e determinare la prossimità delle cure per i nostri cittadini, per i nostri pazienti. Siamo particolarmente orgogliosi in questa edizione di avere ospiti eccezionali, primo fra tutti il professore Giulio Maira che tutto il mondo conosce, il più grande neurochirurgo della storia vivente e che è voluto originario di San Cataldo e che è venuto con grandissimo piacere a presenziare i nostri lavori. Per noi è un piacere e un onore ospitare questo convegno di neurologia proprio qui a San Cataldo, proprio qui in questo splendido auditorium. È un onore perché vista l'alta levatura degli intervenuti, visto l'evento, e devo dire che questo ancora una volta pone al centro della nostra provincia, al centro della regione, la nostra città. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha incontrato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti per avviare il confronto sulle priorità economiche e finanziarie della Sicilia. Il governatore siciliano ha posto il tema dell'avvenuto aumento della compartecipazione finanziaria della regione alla spesa sanitaria, aumento che determina un aggravio per le casse solane. Sono molto soddisfatto del proficuo clima riscontrato oggi al MEF, afferma il presidente Schifani, e ho molto apprezzato l'apertura e la sensibilità del ministro Giorgetti che, una volta preso atto delle aspettative della regione, ha manifestato la disponibilità a valutare idonee iniziative per la stabilizzazione finanziaria della Sicilia. E adesso parliamo di Noi per la Salute. Nasce a Caltanissetta un'associazione per coinvolgere istituzioni e cittadini. Si è costituita a Caltanissetta l'associazione di promozione sociale Noi per la Salute di Inanzelmi, con la necessità di costituire un'associazione che si occupi di promozione della salute, nata da un'analisi dell'offerta sanitaria nel nostro territorio rivelatasi spesso carente e frammentata e che costringe gli utenti a miracolosi equilibrismi per trovare risposte. In questa opera si cercherà di coinvolgere istituzioni e cittadini, mettendoli di fronte alla realtà di quanto accade, liste d'attesa, carenze di organici, mancate risposte, risposte inadeguate, ma anche servizi poco conosciuti o anche poco utilizzati, che potrebbero migliorare la vita delle persone. L'associazione è una comunità solidale, cui aderiscono soggetti che desiderano promuovere e favorire la piena attuazione dei principi fondanti il sistema sanitario nazionale in provincia di Caltanissetta. L'associazione di promozione sociale Noi per la Salute di Inanzelmi avrà come obiettivo far emergere i bisogni di salute e di assistenza sanitaria, ospedaliera e territoriale dei cittadini. Il consiglio direttivo è composto dal presidente Giuseppe Pastorello, il vicepresidente Michele Rizzo, la segretaria Ilaria Insisa, il tesoriere Ermanno Pasqualino e il consigliere Gian Bruno Loporto. La nostra opera sarà soprattutto finalizzata a fare in modo di verificare i reali bisogni dei cittadini e soprattutto i bisogni che non trovano purtroppo risposta ed elaborare anche delle proposte significative da sottoporre alle autorità competenti affinché si renda più efficace e più efficiente l'assistenza sanitaria sia a livello ospedaliero e sia a livello territoriale. Il nostro essere associazione significa non mettere solamente le nostre competenze che pure abbiamo, mettere il nostro modo di vedere quello che è il mondo sanitario, ma è anche ascoltare le persone e cercare di venire incontro per quello che ci sarà possibile e se ci sarà dato anche la possibilità di trovare un terreno di incontro con chi ha responsabilità di gestione. Il lavoro sarà lungo e duro e quindi noi ci proponiamo, ecco, come suggeritori, cioè saremo la parte, diciamo, che difenderà la gente, difenderà non nel senso perché c'è una contrapposizione, ma perché l'ASF con i suoi servizi possa venire incontro alle esigenze della gente. Bollo senza sanzioni e interessi dal 2016 al 2021 per pagare c'è tempo fino a martedì. Ultimi sei giorni per approfittare della norma stracciabollo è infatti il 30 novembre l'ultima data entro cui in Sicilia chi ha pagamenti arretrati del bollo auto potrà sanare i propri debiti senza incorrere in sanzioni e interessi. Proprio l'assessorato all'economia della regione siciliana nell'ambito delle agevolazioni introdotte dalla legge regionale lo scorso agosto consente ai cittadini di mettersi in regola per i pagamenti scaduti tra il 1 gennaio 2016 e il 31 dicembre 2021. È l'assessore all'economia Marco Falcone che in riferimento allo stracciabollo spiega che si tratta di un intervento che con buon senso darà respiro alle casse della regione e migliorerà la capacità riscossiva venendo incontro alle esigenze del contribuente. Per aderire alla regolarizzazione basterà pagare la tassa automobilistica regionale entro il 30 novembre 2022 nelle delegazioni ACI e nelle agenzie di pratiche auto. Servirà a specificare la targa del veicolo e l'anno di imposta che si intende regolarizzare. La sanatoria non prevede rateizzazioni. Ad usufruire dell'agevolazione potranno essere sia le persone fisiche che le giuridiche. E cambiamo argomento. Zone rurali, proposta di regolamento per contributo alle famiglie residenti non servite da rete idrica. La terza commissione ambiente presieduta dal consigliere Adele Castellana in virtù delle proprie competenze ha elaborato una proposta di regolamento in merito alla concessione di un contributo alle famiglie residenti nelle zone rurali non servite da rete idrica. Tali famiglie infatti sono costrette ad approvvigionarsi facendo ricorso ad un servizio privato di autobotte affrontando spese certamente superiori rispetto a quanti risiedono nell'ambito del perimetro urbano. La proposta ideata dalla commissione prevede la corresponzione di un contributo pari al 50% del costo sostenuto dai richiedenti per una fornitura mensile sino ad esaurimento delle somme inserite nell'apposito capitolo di bilancio. Si attende adesso il vaglio della proposta da parte degli uffici competenti. La commissione, nell'occasione formata dai consiglieri Castellana, Tuminelli, Mazza, Dornetto, Doro, Falcone e Visconti auspica che il nuovo regolamento possa presto ottenere l'approvazione del consiglio comunale in modo da essere operativo per l'inizio del nuovo anno. Questo regolamento nasce innanzitutto dalla collaborazione dell'intera commissione e da parte di tutti i componenti con il contributo da parte di tutti i componenti. Speriamo, noi ci ospitiamo che questo regolamento arrivi agli uffici e venga portato subito in consiglio comunale così da poterlo approvare e quindi dare questo piccolo sollievo a queste famiglie. Il consiglio comunale di Caltanissetta tornerà a riunirsi lunedì 28 novembre convocato dal presidente Giovanni Magri all'ordine del giorno della seduta in programma alle ore 19.30 a Palazzo del Carmine la proposta di deliberazione su variazioni di bilancio di previsione 2022-2024. Parliamo di violenza sulle donne, un incontro a Palazzo Moncada nella Sala degli Oratori. La violenza ha effetti negativi a breve e a lungo termine sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima. Le conseguenze possono determinare per le donne isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di se stesse e dei propri figli. I bambini che assistono alla violenza all'interno dei nuclei familiari possono soffrire di disturbi emotivi e del comportamento. Gli effetti della violenza di genere si ripercuotono sul benessere dell'intera comunità. In prossimità del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, a Caltanissetta si susseguiranno una serie di eventi per parlare di questo argomento. Uno di questi si è svolto mercoledì pomeriggio presso la Sala degli Oratori a Palazzo Moncada, promosso dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna Caltanissetta della direttrice Rossana Provenzano e moderato dalla giornalista Carla Falzone. Sono intervenuti per parlare dell'argomento Ester Vitale dell'associazione Onde Donne in Movimento, la professoressa Fiorella Falci, il presidente della cooperativa Etnos Fabio Rubolo, il magistrato Giovanni Battista Tona e lo psicologo Emilio Vergani. Questo evento ha avuto un taglio molto particolare perché abbiamo un po' dibattuto sul filone reato e sulla presa in carico del maltrattante partendo proprio dalla condizione della vittima e dell'autore del reato quindi del carnefice e sostanzialmente abbiamo come dire cercato di uscire fuori da un campo che sembra sempre più essere tracciato verso la condanna e la punizione del colpevole diciamo trascurando invece tutti quegli ambiti che sono la prevenzione e come dire anche la valorizzazione un po' che lega questa vicenda che non è da leggere soltanto tra la vittima e il reo ma che prende invece forma dentro una famiglia dentro una comunità dentro quindi una condizione sociale da leggere e interpretare non più in modo diciamo semplicistico banale ma tenere conto appunto di questa complessità e come proprio a partire da un libro importantissimo recente che ha scritto Tamara Pitch in realtà questo fenomeno così complesso e così come dire anche difficile da trattare e non può ricadere soltanto nell'asse dell'imbuto della condanna penale parliamo parliamo adesso delle attività svolte dalla Croce Rossa italiana la distribuzione di viveri ma anche di vestiario nel nuovo magazzino è passato quasi un anno da quando il comitato nisseno della Croce Rossa italiana aveva rivolto un appello che è stato subito accolto per poter rintracciare un luogo un magazzino abbastanza capiente così da accogliere la grande quantità di derrate alimentari in arrivo in città già da qualche tempo nei nuovi locali il comitato nisseno distribuisce sia viveri alle famiglie che ne hanno necessità che vestiario con il coinvolgimento di circa 30 volontari il problema è stato risolto grazie all'appello di quel periodo grazie all'imprenditore nisseno che ha chiesto l'anonimato che ci ha gratuitamente fornito questo enorme magazzino dove noi stiamo effettuando l'attività di raccolta e distribuzioni e viveri alimentari che provengono dalla comunità europea nonché quelli che ci lasciano i cittadini e in un'altra parte del magazzino abbiamo effettuato anche la distribuzione del vestiario giocattoli quindi abbiamo separato i due magazzini rendendoli distintamente autonomi tra loro ma fruibili negli orari dal martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 18 i cittadini che hanno necessità si devono prima regare la nostra sede della Croce Rossa effettuare tutte le pratiche amministrative relativamente alla presentazione dell'Isee o comunque di altra documentazione comprovante le esigenze o attraverso le relazioni dei servizi sociali del comune di Caltanissetta col quale siamo in perfetta sintonia ed in convenzione quindi le esigenze dei servizi sociali sono superiori a qualunque altra tipa di documentazione ottenuto il tesserino per poter scendere qui da noi possono venire il martedì e il giovedì una volta al mese per poter ritirare i viveri che la comunità europea o comunque i cittadini ci danno oppure per poter ritirare vestiario nuovo o usato 2500 metri quadrati circa a disposizione che in parte sono stati ristrutturati dobbiamo fare ancora dei ritocchi tecnici ma riteniamo che entro il primo semestre del 2023 saranno completamente funzionanti e pienamente operativi aumentando anche un'altra parte che riguarderà anche la parte di protezione civile quindi questa è una novità del 2023 anche il reparto di protezione civile sarà separato ovviamente dai vivere e vestiario ma sarà anche all'interno di questo magazzino si registrerebbe un aumento dei nuclei familiari che usufruiscono del servizio infatti per far fronte alle esigenze del territorio sono stati anche raddoppiati i turni di distribuzione l'anno scorso adesso abbiamo quasi raddoppiato il numero delle famiglie che si aggirano circa ci avviciniamo a mille famiglie adesso diciamo che una famiglia media di 3-4 persone superiamo di gran lunga i 3.000-3.500 persone residenti a Caltanissetta città parlo del comune di Caltanissetta una sezione una sezione del magazzino di via Tomasi di Lampedusa 64D è dedicata dunque all'abbigliamento che può essere donato dai cittadini contattando il comitato nisseno della Croce Rossa Italiana una volta portate in magazzino le donazioni vengono poi sistemate negli scaffali le maggiori richieste riguardano indumenti e non solo adatti ad affrontare le rigide temperature dei prossimi mesi in questo momento coperte piumoni e cose invernali in genere per i bambini prendiamo tutto dai giocattoli però le cose necessarie sono i giubbottini le felpe i pantaloni le tutine per la scuola al via domani 25 novembre ad Agrigento la 14esima edizione delle giornate gregoriane con un convegno dal titolo Ctiseis Fondazioni d'Occidente dedicato alla fondazione di Acragas ai primi decenni della vita della città l'incontro in programma dalle 16 nella sala fazzello del museo archeologico regionale Pietro Grifo tornare a celebrare le giornate gregoriane dice l'assessore regionale dei beni culturali dell'identità siciliana Elvira Mata rappresenta un importante segno di ripresa della normalità ma anche la giusta sede per una rilettura della storia della città di Acragas alla luce dei reperti portati alla luce di recente relativamente al Tempio di Giunò nel quartiere ellenistico romano fino al Teatro Antico ritrovamenti che sono certi offriranno interessanti spunti di approfondimento agli studiosi e ricercatori delle università italiane e internazionali presenti attraverso le giornate gregoriane il Parco archeologico della Valle dei Templi infatti punta anche alla divulgazione dei risultati delle ricerche più recenti realizzate nell'area che hanno portato a disegnare una nuova immagine della città arcaica il convegno che si concluderà domenica 27 novembre si soffermerà anche sui rapporti con la città di Gela da cui arrivare nei fondatori di Acragas Aristono e Pistilo e quelli con Rodi e Creta e adesso Covid in Sicilia il bollettino settimanale contagi e ospedalizzazioni in aumento il Covid-19 continua la sua azione con una risalita della curva pandemica registrata nella settimana dal 14 al 20 novembre secondo il bollettino regionale settimanale infatti si registra un incremento del più 7,65% di nuovi positivi con un'incidenza di 225,74 casi per 100.000 abitanti il tasso di nuovi positivi più elevato si è registrato nelle province di Enna Trapani e Catania mentre la fascia di età maggiormente a rischio è sempre quella che va fra i 60 e gli 89 anni con le nuove ospedalizzazioni che hanno registrato un incremento e oltre la metà dei pazienti è risultata non vaccinata per quanto riguarda invece la campagna vaccinale si fa riferimento alla settimana dal 16 al 22 novembre i bambini che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione sono il 21,36% gli over 12 che hanno terminato il primo ciclo di vaccinazione sono l'89,51% sono infine il 72,37% i vaccinati con terza dose dal 7 settembre il Ministero della Salute ha autorizzato l'utilizzo dei vaccini bivalenti per la dose booster aggiuntiva agli over 60 alle persone di elevata fragilità e alle fasce di età over 12 in attesa della terza dose includendo anche operatori sanitari operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziane donne in gravidanza le quarte dosi somministrate dal primo marzo sono state 180.777 delle quali 163.655 a soggetti over 60 le quinte dosi attualmente somministrate sono 2.590 Corinna Clery a Caltanissetta domenica 27 novembre alle ore 18 al Teatro Oasi della Cultura per l'apertura della stagione teatrale 2022-2023 con la stagione autunnale riapre il sipario del Teatro Oasi della Cultura di Caltanissetta domenica 27 novembre alle ore 18 prenderà il via la stagione teatrale 2022-2023 denominata Domenica Pomeriggio a Teatro 23esima edizione l'organizzazione della stagione teatrale pomeridiana è a cura del Teatro Stabile Nisseno con la direzione artistica di Giuseppe Speciale il palcoscenico sarà inaugurato con la rassegna invernale da Corinne Clery presente a Caltanissetta per la prima volta sarà infatti l'attrice francese insieme a Francesco Branchetti Giorgia Battistoni e Mario Biondino a portare scena una commedia brillante dal titolo Il diario di Adamo ed Eva per la regia di Francesco Branchetti una narrazione in chiave eronica ma anche fiabesca di come sia nata l'attrazione fra l'uomo e la donna dopo l'esordio di domenica prossima il Teatro Oasi riaprirà domenica 11 dicembre quando sarà di scena il Teatro Stabile Nisseno con la commedia Ora però muori amore mio In programma domenica 27 novembre alle ore 19 nella cattedrale di Santa Maria la Nova a Caltanissetta il concerto dell'orchestra da camera del Parna Socorro Polifonico Lonigro direttore Carmelo Mantione l'appuntamento rientra rientra nell'ambito della settantesima stagione concertistica promossa dall'associazione Amici della Musica di Caltanissetta dedicata al presidente onorario il maestro Giuseppe Pastorello il programma spazierà dal barocco di Vivaldi ai nostri giorni e adesso la quadricicletta di Enrico Petrantoni realizzata per non farsi sorprendere dalla pioggia Cos'è il genio? È fantasia intuizione colpo d'occhio e velocità d'esecuzione Avrà sicuramente preso spunto da questa frase usata nel film Amici miei di Mario Monicelli il nisseno Enrico Petrantoni che si è inventato questa quadricicletta così come la chiama lui Amante delle bici un giorno colto dalla pioggia mentre era per strada ha pensato a qualcosa per cercare di non farsi sorprendere dalla pioggia e rimanere all'asciutto Così con la fantasia e con le proprie competenze Enrico è riuscito ad inventarsi qualcosa di veramente geniale Questa idea mi è venuta in un lambo ero in bicicletta mi trovavo io nella zona centrale di Caltanissetta mi sono bagnato ho detto ma perché non si può si può fare una bici antipioggia ci ho lavorato diciamo circa sei mesi e ho progettato io con l'aiuto di mio papà mio figlio anche mio nipote di fare questo progetto quadricicolo elettrico con pedalata assistita in un motore della Baffa anche che con la norma italiana siamo intorno ai 250 watt più c'è la pedalata assistita che è molto importante l'ho provata mentre piove sinceramente sto in movimento mi mantengo diciamo mezzo in forma perché vai a pedalare mentre i passeggi non ti bagni ho voluto creare questo progettino l'ho pubblicato ho visto che anche l'ho provato a farmi un giro a Caltanissetta ma non riesco a farmi un giro completo perché al momento che io mi fermo sono circondato dalle persone perché è una novità una novità che è bella sia per ragazzi bambini anche adulti perché l'ho creata a due due posti è un biposto uno davanti e uno dietro andiamo allo sport calcio virtuale in rete la Nissa cerca giocatori attraverso i social media saranno indicate le modalità di selezione la Nissa cerca giocatori virtuali riparte l'avventura della federazione italiana gioco calcio e lega nazionale dilettanti nel mondo del gaming competitivo legato al calcio campi e stadi virtuali ma emozioni più che reali condivise da migliaia di giocatori e giocatrici che tramite un joypad portano sul rettangolo verde in pixel blasone e colori di società calcistiche italiane pro dilettantistiche ma anche di tutto il continente europeo dopo il termine della scorsa stagione con il coinvolgimento di 3600 giocatori e la prima gaming week si aprono ufficialmente le iscrizioni completamente gratuite per partecipare al campionato di I-Serie Eccellenze regionale che inizierà a metà dicembre sarà la Speedbit Caltanissetta che si occuperà di reclutare i giocatori che rappresenteranno il club biancoscudato nella prestigiosa manifestazione FIGC ospitando gratuitamente tutti gli incontri intanto il presidente della Nissa l'avvocato Sergio Iacona e il CEO di Speedbit Italia Salvatore Speranza hanno sottolineato il valore sociale e ludico di questo nuovo progetto che darà ulteriore lustro ad una compagine sportiva che vuole annoverarsi tra le più prestigiose innovative società nazionali di categoria e ancora sport basket serie D l'Invicta Caltanissetta guidata da Giuseppe Spena punta ai playoff l'Invicta Basket nasce nel 1979 fondata dal professore Calogero Terrana noto insegnante di educazione fisica e presidente onorario della società e ad oggi in città è l'unica società che ha mantenuto senza interruzione il basket giovanile quest'anno con i suoi 150 atleti partecipa a tutti i campionati giovanili offrendo la possibilità di fare sport sin dalla prima elementare a bambini con i gruppi di mini basket fino alla prima squadra composta per due terzi da giovanissimi talentuosi grazie ad una programmazione a lungo termine è riuscita ad avere una prima squadra in serie D formata esclusivamente da giovani nisseni che sotto la sapiente guida del coach Giuseppe Spena sta conducendo da capolista il campionato mostrando un gioco veloce e divertente domenica prossima l'Invicta sarà impegnata in trasferta sul campo della pallacanestro Sant'Agata tentando di vincere la quarta partita consecutiva obiettivo della stagione è arrivare ai playoff per provare a sognare una serie C che manca in città da molto tempo ci stiamo preparando per la trasferta di Sant'Agata dopo una partita tosta contro la Zanella Cefalù che il risultato è stata una partita studiata e combattuta per due quarti poi abbiamo avuto la meglio sul piano fisico e sul piano realizzativo e quindi diciamo che la partita si è messa a nostro favore ora stiamo preparando la partita per andare a giocare in un campo difficile come quello di Sant'Agata che in casa ha pure battuto Capodorlando un'altra squadra ben costruita e ben firmata le ambizioni sono tante alla fine noi dobbiamo lavorare tanto come l'ultima partita basta allenarci e gli obiettivi poi arrivano da soli per me ha un grande significato perché io sono cresciuto in questa società e per me il minimo che posso fare è continuare a contribuire a questa crescita che ormai è un dato di fatto e che va avanti dall'anno scorso noi abbiamo l'obiettivo di arrivare fino in fondo sicuramente è l'obiettivo di playoff e puntiamo ad una fine playoff per una squadra che è stata costruita negli ultimi due anni con un progetto che parte dai giovani che parte dai giocatori locali e questa è la punta del nostro progetto perché il progetto è una base piramidale molto larga che copre tutte le fasce d'età dal mini basket e fino alla prima squadra diciamo passando a tutti i campioni giornalini Bene era questa l'ultima notizia per oggi non ci sono ulteriori aggiornamenti ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale intanto vi lascio al meteo le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito ben trovati un aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì quando un nuovo ciclone mediterraneo raggiungerà i nostri mari sarà fuoriero di rovesce temporali tra venerdì sera sabato e domenica su molte zone del centro sud con venti burrascosi difatti si isolerà sabato questo ciclone proprio sul tirreno meridionale nel dettaglio possiamo notare le nubi in aumento al centro nord mappa precipitazioni con delle piogge che giungeranno sin nella prima parte del giorno sull'alto versante tirrenico ma le piogge poi nella seconda parte del giorno man mano guadagna la nostra strada anche su un po' tutto il centro sud nel dettaglio ecco le precipitazioni che da ovest raggiungeranno la parte tirrenica e la Sardegna risparmiato il nord solo un po' di variabilità ma senza fenomeni tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Travi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Del Poggio Viale Luigi Monaco Servizio notturno Al Duomo Via Filippo Paladini